Eccoci qua cari amici, buongiorno a tutti, buongiorno da Cembra e dalla Val di Cembra dove fra poco partirà la manifestazione dei trattori agricoli in marcia ridotta andiamo a vedere un po' qua cosa ci offre un po' questo piazzale già la maggioranza dei trattori sono arrivati e alcuni stanno appunto arrivando anche sui carrelloni e sono qua in fase di scarico appunto proprio per poter entrare nel gruppone dei trattori eccolo qua ragazzi intanto vi faccio vedere qua abbiamo uno Stair dopo non ditemi i modelli perfetti perché qua ci vorrebbe una spalla che mi spiega il tutto e niente, vi do così una traccia di trattori, eccolo qua uno Stair qua si mette un po' con la fase di scarico vediamo un po' qua cosa ci scaricano vediamo qua, siamo un po' in diretta qua, eccolo qua vediamo una eccolo qua un sussamento in fase di scarico vai tranquillo qua eccolo qua e niente è iniziata la manifestazione possiamo dire diciamo... se mette un 120 eccolo qua ecco qua ma ci guidiamo anche un po' così la fase di scarico un eron andiamo qua a vedere questo ero eccolo qua tra poco vanno a scaricare questo ero eccolo qua ragazzi mostriamoci un po così la diretta come viene viene ragazzi eccolo qua stiamo parlando di un ero ragazzi guardate qua innanzitutto abbiamo qua la mia auto un po già bloccata tra i trattori eccetera 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 ecc Viva la cinghia! E niente ragazzi qua siamo appunto un val di cembra, a cembra appunto Eccolo qua Bravissimo No vabbè Eccolo qua Qua c'è il scarico Per la manifestazione in marcia ridotta Eccolo qua ragazze Bravissimo Piccolo trattore Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua La manifestazione può partire alla grande Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Bravissimo Eccolo qua Come ti chiami? Giorgio Bravo Giorgio cosa diciamo questa manifestazione? Sarà una bella manifestazione? Come sempre Come sempre Bravissimo Vai Aspetta che ti fa vedere come ti ho dato Bravo vai tranquillo Spettacolo ragazzi Partire la manifestazione Vai tranquillo Ragazzi qua vi saluto A dopo Eccolo qua Andiamo a vedere un po' di casino qua Un po' di Eccolo qua Parte la manifestazione Eh? Un altro stair Eccolo qua A presto Eccolo qua